Sede del pretorio alicale a Roma, ecco il nostro Matteo Parlato che è proprio in compagnia di Marco Pannella. Allora, te la linea Matteo. Buonasera, sono qui con Marco Vernella, come vedete qui accanto a me. Allora, ci può gentilmente spiegare per chi ha chiesto questo ritardo di 30 giorni, la posticipare alle elezioni di 30 giorni? Gentilmente, e come no, subito, gentilmente vediamo, per un motivo molto semplice, è che noi stiamo adesso per raggiungere, se non si segue la nostra proposta, ad una marea di illegalità delle altre più gravi ancora. Cosa intendo dire? Siamo arrivati ormai a 15 giorni dal voto e invece di avere iniziato la campagna elettorale non se ne fa nulla. Ieri c'è stato un primo mancato incontro perché la polverina non c'è nata, insomma. C'era la Bonino. Sapete quanti ascoltatori? 210.000. Ed è la presa per il sedere di tutto il Paese alla faccia del Parlamento che la Rai TV sta realizzando. In questo senso, assolutamente. nel senso che il Parlamento, perché la Commissione di Vigilanza e il Parlamento, ha stabilito che ci sono quattro settimane di campagna elettorale e le modalità con le quali la Rai dovrebbe farlo. La Rai è assolutamente, non solo inadempiente, ma per me responsabile di un attentato ai diritti civili e politici del cittadino. Allora dico, facciamo la sanatoria per tutti e non solo per un paio, per tutti quelli sul piano delle firme, quelli che sono arrivati e hanno depositato la roba. E così si appiana per tutti. Non c'è Roma, Milano, Napoli, eccetera. E poi magari chissà cos'altro. e abbiamo subito la campagna elettorale. Mi scusi se la interrompo. Intanto lei comunque sta parlando alla Rai. La seconda cosa, sta per arrivare Persani che ha detto... Ma no, sto parlando alla Rai, non me ne ero accorto, scusatemi. Sono vecchio, arteriosclerotico, scusate, scusate. Appunto dicevo che la Rai si comporta come un'associata per delinquere. Vedete che a voi di questa parola vi licenziano tutti perché voi siete dei giornalisti seri, quindi vi licenziano a voi. Comunque sta per arrivare a Persani. Che cosa vi direte con Persani? Intanto benvenuto grazie di esserci qui. Poi continueremo di nuovo a dire che sicuramente con Persani c'è un salto di qualità del Partito Democratico che ha rotto con le precedenti impostazioni che erano suicide e anche cretine politicamente parlando. Quindi questo lo diremo. Poi se non siamo d'accordo su sabato questo obiettivo noi ha un obiettivo contro il cattivo, contro Berlusca. quello non capisce più nulla e io non infierisco contro chi non capisce più nulla come chiaramente il mio carissimo Silvio. No, noi vogliamo invece un obiettivo. L'obiettivo è rientrare nel massimo di legalità e di ragionevolezza possibile. Abbiamo capito, ciò vorremmo che per quattro settimane ci sia un po' di dibattito e la gente invece di sentire tutte queste stronzate e sì lo so e che tutte queste stronzate no no appunto non me lo permette no io stronzate l'ho detto per sbaglio. Se non avete altre domande scusate ma... Grazie Matteo, ho parlato vedremo quindi il dibattito politico come proseguirà sentivamo anche di Bersani che sta per arrivare dai radicali Bersani che dice...